Tragedia questo pomeriggio nelle acque antistanti la spiaggia di Marrizza. Un pescatore subacqueo di 63 anni, originario di Sorso, Gesumino Olivieri, è deceduto per causa di incorsi di accertamento durante un'immersione, a dare l'allarme alla moglie. Sul posto sono intervenuti la guardia costiera, i vigili del fuoco e il comando provinciale di Sassari. Il corpo senza vita del 63enne è stato recuperato dai sommo Zatori e trasportato con una motovedetta nel porto di Castelsardo. La procura della Repubblica di Sassari ha disposto all'autopsia.